il vecchio un tiepido sole d'autunno filtrava nel cortile della fattoria da sopra i grandi faggi dei fossi sotto l'erba rasata dalle mucche la terra umida impregnata di pioggia recente cedeva sotto il piede con uno sciacquio e i meli stracarichi seminavano i loro frutti d'un verde pallido nel verde cupo dell'erba quattro giovani giovenche attaccate in fila passavano muggendo verso la casa il pollame metteva un brulichio multicolore sull'etamaio davanti alla stalla raspando spostandosi schiamazzando mentre i due galli cantavano senza posa e cercavano vermi per le loro galline chiamandole con un chiocciare acuto il cancello di tronchi si aperse e un uomo di forse 40 anni ma che ne dimostrava 60 rugoso contorto entrò camminando a passi lunghi e lenti che i grossi zoccoli imbottiti di paglia rendevano ancor più pesanti le braccia troppo lunghe pendevano in abbandono quando fu vicino alla cascina un cagnuolo giallo legato al piede d'un pero enorme accanto a un barile che gli serviva da cuccia scodinzolò e si mise a mugolare in segno di gioia l'uomo gridò alla cuccia finò il cane tacque dalla casa uscì una contadina il suo corpo ossuto largo e piatto si disegnava sotto un giubbetto di lana che le stringeva il seno una sottana grigia troppo corta cadeva sino a metà delle gambe nascoste da calze turchine anche lei portava zoccoli imbottiti di paglia una cuffia bianca diventata gialla copriva pochi capelli appiccicati al cranio e la faccia arsa magra brutta sdentata aveva le caratteristiche selvatiche e bestiali così frequenti nei contadini l'uomo domandò come sta la donna rispose il parroco dice che siamo agli estremi che non passerà la notte varcarono insieme la soglia attraversata la cucina entrarono nella camera bassa nera malamente rischiarata da un finestrino davanti al quale ricadeva un cencio di tela normanna le grosse travi del soffitto infoscate dal tempo nere e affumicate attraversavano l'ambiente da una parte all'altra reggendo il sottile tavolato del solaio dove notte e giorno correvano flotte di topi il suolo di nuda terra umida sembrava unto e in fondo al locale il letto formava una macchia vagamente bianca un rumore quasi regolare rauco una respirazione dura rantolante sibilante con un gorgoglio d'acqua come quello prodotto da una pompa guasta partiva dal giaciglio tenebroso dove un vecchio il padre della contadina agonizzava l'uomo e la donna si avvicinarono e guardarono il moribondo con occhio placido e rassegnato il genero disse questa volta ci siamo non passerà la notte la fattoressa rispose respira così da mezzogiorno poi tacquero il padre aveva gli occhi chiusi un viso terreo così scarnito che sembrava di legno la bocca succhiusa lasciava passare un soffio breve e agitato e il lenzuolo di tela grigia si sollevava sul petto ad ogni inspirazione dopo una lunga pausa il genero disse non c'è che lasciarlo finire non possiamo far nulla però è seccante per via del colza che si dovrebbe seminare domani intanto che il tempo è favorevole quella circostanza parve preoccupare la moglie lei riflette qualche istante poi dichiarò se muore da un momento all'altro faremo il funerale sabato così domani potrai occuparti del colza il contadino pensoso osservò già ma domani bisognerà fare gli inviti per il funerale e per avvertire tutti da tourville a maneto mi ci vorranno cinque o sei ore dopo aver meditato due o tre minuti la moglie fece non sono ancora le tre potresti cominciare il giro stasera e avvertire tutti quelli di tourville puoi dire senz'altro che è morto dal momento che non passerà il pomeriggio l'uomo rimase qualche istante perplesso pesò il pro e il contro della proposta infine dichiarò va bene ci vado fece per uscire ma tornò indietro e disse dopo un'incertezza visto che non hai nulla da fare da una scrollata ai meli per tirar giù un po di mele che poi ci fai quattro dozzine di mele in gabbia per quelli che vengono al trasporto dato che un rinfresco ci vuole accendi il fuoco coi fascinotti della rimessa del frantoio sono asciutti dalla camera passò in cucina aprì la maglia prese una pagnotta da sei libre ne tagliò accuratamente una fetta raccolse le briciole nel cavo della mano e se le buttò in bocca per non sciupare nulla poi con la punta del coltello prese dal fondo di un vaso di terraglia scura un po di burro salato lo spalmò sul pane e si mise a mangiare con la lentezza che metteva in ogni cosa riattraversò il cortile fece accucciare il cane che aveva ricominciato a guaire prese il viottolo che costeggiava il fosso e si allontanò verso tourville rimasta sola la donna si mise all'opera scoperchiò la madia della farina e preparò la pasta per fare le mele in gabbia la lavorò a lungo girandola rigirandola allungandola spezzandola schiacciandola poi la raccolse in una grossa palla ad un bianco giallastro e la posò in un angolo della tavola andò a cogliere le mele e per non sciupare i rami con la pertica salì su uno sgabello sceglieva i frutti con cura staccando i più maturi e mettendoli nel grembiule una voce la chiamò dalla strada uè la chicò lei si voltò era un vicino mastro sim favè il sindaco il quale andava a concimare le sue terre e stava seduto a gambe penzoloni sulla carretta dell'etame che posso fare per voi mastro sim che ne è del vecchio lei gridò super giù è morto il trasporto è per sabato alle sette per via del trapianto della colza il vicino replicò d'accordo buone cose statevi bene la donna rispose alla cortesia grazie altrettanto e si mise a raccogliere le mele appena rientrata in casa andò a vedere suo padre credendo di trovarlo morto ma fin dall'uscio sentì il rantolo sordo e monotono e ritenendo inutile avvicinarsi al letto per non perdere tempo cominciò a preparare le mele in gabbia avvolgeva i frutti ad uno ad uno in una sottile sfoglia di pasta poi li allineava sull'orlo della tavola quando nebbe preparati 48 in file di 4 da 12 pensò di preparare la cena e appese sul fuoco il paiuolo per lessare le patate aveva pensato che per quel giorno era inutile accendere il forno dato che aveva ancora tutta la giornata seguente per i preparativi il marito rincasò verso le 5 appena ebbe varcato la soglia chiese è andato lei rispose ancora no continua a rantolare andarono a vedere il vecchio era sempre nello stesso stato di prima il respiro rauco regolare come il movimento di un pendolo non sarà né accelerato né rallentato si ripeteva ogni secondo variando appena di tono se l'aria entrava usciva dal petto il genero lo guardò e disse finirà senza che ce ne accorgiamo come una candela tornarono in cucina e senza parlare andarono a cena mandata giù la minestra mangiarono anche una fetta di pane imburrato poi appena i piatti furono rigovernati tornarono nella camera del moribondo la donna passò davanti al viso del padre un lumicino con lo stoppino fumoso se non avesse respirato sarebbe sembrato senz'altro morto il letto dei due contadini era nascosto all'altro lato della stanza in una specie di rientranza si ficcarono sotto le lenzuola senza dire una parola spensero la luce chiusero gli occhi dopo un po' russavano tutti e due ronfi diversi uno più profondo l'altro più acuto accompagnando il rantolo ininterrotto del moribondo nel solaio i topi correvano il marito si svegliò alle prime luci dell'alba il suocero era ancora vivo l'uomo scrollò la moglie inquieto per quella resistenza del vecchio senti femmi pare che non voglia andarsene che faresti te sapeva che era una buona consigliera lei rispose certo non passerà la giornata non c'è da aver paura il sindaco non proibirà che lo si seppellisca domani stesso visto che lo ha permesso col vecchio renar che morì proprio alla semina l'uomo rimase convinto dalle evidenza del ragionamento e andò sui campi la moglie fece cuocere le mele in gabbia poi sbrigò tutte le solite faccende della fattoria a mezzogiorno il vecchio non era ancora morto i braccianti ingaggiati a giornata per il trapianto del colza vennero tutti insieme a vedere quel vecchio che non voleva andarsene ognuno disse la sua poi tornarono sui campi alle sei quando tornarono a casa il vecchio respirava ancora il genero si spaventò che faresti ora femmi lei non sapeva più cosa fare andarono dal sindaco lui promise che avrebbe chiuso un occhio e che avrebbe permesso il trasporto per il giorno seguente anche l'ufficiale sanitario dal quale si recarono si impegnò per fare un piacere a mastro chicò ad anticipare la data del certificato di morte l'uomo e la donna tornarono a casa più tranquilli si misero a letto e si addormentarono come la sera precedente mescolando i loro respiri sonori al respiro più debole del vecchio quando si svegliarono non era ancora morto allora si spaventarono stavano ritti al capezzale del padre guardandolo con diffidenza come se volesse giocare loro un brutto tiro ingannarli contrariarli per divertirsi e ce l'avevano con lui soprattutto per il tempo che faceva perdere a tutti il genero chiese che dobbiamo fare lei non sapeva rispose è proprio una gran seccatura ormai non potevano più avvertire tutti gli invitati che sarebbero arrivati da un momento all'altro decisero di aspettarli e di spiegare loro la cosa verso le sette meno dieci cominciarono ad arrivare i primi le donne vestite di nero con il capo coperto da un gran velo venivano avanti con aria triste gli uomini impacciati nelle loro giacche di panno avanzavano più disinvolti a due a due discorrendo d'affari mastro chicò e la moglie scomenti li accolsero afflitti e dispiaciuti e tutti e due insieme avvicinandosi al primo gruppo scoppiarono a piangere spiegavano l'accaduto dicevano il loro imbarazzo offrivano delle sedie si agitavano si scusavano volevano dimostrare che chiunque altro avrebbe fatto lo stesso parlavano senza sosta diventati improvvisamente così loquaci da non dar modo agli altri di rispondere andavano dall'uno all'altro chi l'avrebbe creduto è incredibile che possa durare tanto gli invitati interdetti un po delusi come chi si vede privato di una cerimonia tanto attesa non sapevano cosa fare restavano chi seduto chi in piedi alcuni volevano andar via mastro chicò li trattenne mangeremo lo stesso un boccone avevamo preparato le mele in gabbia bisogna pure approfittarne i volti si illuminarono a quella prospettiva tutti cominciarono a discorrere sotto voce il cortile si riempì a poco a poco i primi arrivati raccontavano il fatto agli altri parlottavano e l'idea delle mele in gabbia aveva rallegrato tutti le donne andavano a vedere il moribondo si facevano il segno della croce accanto al letto balbettavano una preghiera uscivano i uomini meno avidi di quello spettacolo si limitavano a sbirciare attraverso il finestrino che era stato aperto la chicò spiegava l'agonia sono due giorni che è così né più né meno né più forte se ne è più piano non pare una pompa senza acqua quando tutti ebbero visto l'agonizzante si pensò allo spuntino ma siccome erano in troppi per stare tutti in cucina portarono fuori la tavola davanti all'uscio le quattro dozzine di mele in gabbia dorate appetitose disposte su dei grandi vassoi attiravano gli sguardi ognuno allungava il braccio per prendere la sua temendo che non ce ne fossero a sufficienza ma ne avanzarono quattro ma struscicò disse con la bocca piena se ci vedesse il vecchio chissà come si dispiacerebbe fatto sta che gli piacevano tanto da vivo un contadino grosso e gioviale disse ora non mangerà più a ciascuno il suo turno questa riflessione invece di rattristare gli invitati sembrò metterli in allegria toccava a loro ora mangiare le mele la chicò disperata per la spesa andava e veniva continuamente dalla cantina per pigliare dell'altro sidro i boccali si susseguivano e venivano vuotate uno dopo l'altro si rideva ora si parlava a voce alta si gridava come accade durante i pranzi improvvisamente una vecchia contadina che era rimasta accanto al moribondo trattenuta dall'avida paura di quella cosa che presto sarebbe capitata anche a lei si affacciò alla finestra gridando con voce stridula è andato è andato tutti tacquero le donne si alzarono in fretta per andare a vedere era morto davvero non rantonava più gli uomini si guardavano abbassavano gli occhi a disagio non avevano ancora finito di masticare le mele aveva scelto male il momento quel rimbambito i due chicò ora non piangevano più era finita si sentivano tranquilli ripetevano si sapeva noi che non poteva durare se solo avesse potuto decidersi stanotte non avrebbe provocato tanto trambusto non importa era finita avrebbero sotterrato lunedì ecco tutto e avrebbero di nuovo mangiato delle mele in gabbia per l'occasione gli invitati se ne andarono parlando dell'accaduto contenti lo stesso di essere stati presenti e di aver mangiato delle mele in gabbia per l'occasione quando l'uomo e la donna si trovarono soli faccia faccia lei disse col viso contratto dall'angoscia bisognerà preparare di nuovo quattro dozzine di mele in gabbia se solo si fosse deciso stanotte il marito più rassegnato rispose non sono mica cose che capitano tutti i giorni